Nei giorni scorsi in comunità montana c'è stato un incontro dedicato al progetto per completare la pista ciclopedonale da Bergamo a Valbondione. Ricordiamo che ne manca un pezzo compreso tra i comuni di Villadogna, Ardesio e Gromo. La prologo di Ardesio anche nei mesi scorsi si è spesa molto per questo progetto. A che punto siamo? Che cosa è stato deciso nel corso di questo incontro? Allora siamo a buon punto nel senso che l'incontro è stato davvero importante e davvero molto molto soddisfacente. La prologo si è interessata in prima persona al progetto della ciclabile perché proprio come dice lo statuto della prologo tra le cose che deve fare c'è anche quella di aiutare, consigliare, affiancare l'amministrazione comunale in alcune scelte che possono essere di valore e di rilievo per uno sviluppo e un'accoglienza turistica diversa improntata magari ad affrontare delle sfide anche nuove. Quella del cicloturismo è una sfida nuova per la Valle Seriana, nuova relativamente perché la pista ciclabile c'è in Valle Seriana da tanti anni. Manca proprio il pezzettino, è assurdo che arrivi a Villadogna e poi debba riprendere da Gromo fino a Valbondione e non ci sia il collegamento Villadogna-Gromo. Martedì nell'incontro è stato definito più o meno un ipotetico passaggio deciso dai tre uffici tecnici dei paesi. È stato individuato un ipotetico passaggio che adesso con il progetto definitivo ed esecutivo vedrà proprio nascere ovviamente metro su metro quella che sarà l'acciclabile Villadogna-Gromo. Devo ringraziare ovviamente la provincia di Bergamo perché metterà sul piatto 250 mila euro per la realizzazione del progetto. Verrà fatta una convenzione a 5 con la comunità montana e i tre comuni, quindi sarà poi la comunità montana che individuerà i tecnici al suo interno oppure darà mandato esterno per la realizzazione di questo progetto. Ringrazio davvero la provincia di Bergamo che ci ha creduto in questo progetto, in questa idea e già nel mese di luglio aveva speso parole importanti per continuare questo progetto. Tra l'altro è un traguardo importante partire da Bergamo e arrivare a Valbondione in bicicletta o a piedi. Ringrazio le tre amministrazioni comunali perché davvero hanno capito che oltre ad avere uno sbocco turistico la faccenda, il discorso di avere l'acciclabile anche sul nostro territorio e questa completezza di ciclabile, quindi starà poi alle tre amministrazioni, magari anche la Proloco ci metterà ancora qualche idea per poi valorizzarla e dare uno sviluppo successivo all'acciclabile, quindi cosa costruirci all'interno. Però le tre amministrazioni comunali hanno capito anche l'importanza di mettere in sicurezza questo tratto di strada che soprattutto sul tracciato Villadogna-Ardesio, lì nella zona della Valzella, va proprio anche a mettere in sicurezza i pedoni di queste frazioni, anche per chi da Ludrigno deve venire nel centro storico, può incamminarsi lungo l'acciclabile, quindi questo è molto importante. E anche l'Ardesio-Gromo con un tratto totalmente a sbalzo dal ponte Seghe a salire verso il Pianel, la frazione del Pianel, prima del caseificio, è importante proprio davvero anche per la sicurezza dei pedoni in questo tratto di strada perché davvero è un annoso problema che ci portiamo avanti da tanti anni. Non era questo l'obiettivo della Proloco per quanto riguarda l'acciclabile, più un obiettivo turistico e di sviluppo turistico delle tre località, però ovviamente è molto importante anche questo aspetto.